Secondo l'ultimo sondaggio di termometro politico Fratelli d'Italia è il primo partito italiano con il 21,3% dei voti. Segue il Partito Democratico al 21,1% Fratelli d'Italia rimane il primo partito italiano ma per appena uno 0,2% rispetto al Partito Democratico. A dirlo è l'ultimo sondaggio di termometro politico. Secondo la rilevazione il partito di Giorgia Meloni ad eventuali elezioni otterrebbe il 21,3% mentre la formazione guidata da Enrico Letta raccoglierebbe il 21,1%. Si tratta delle stesse cifre del precedente sondaggio. Rispetto a una settimana prima, invece, cala la Lega, che passa dal 18% al 17,7%. Al quarto posto il Movimento 5 Stelle, che guadagna uno 0,1% e passa dal 12,9% al 13% tornando sopra quella soglia psicologica attorno a cui si muove da mesi. Avanza anche Forza Italia, passando dal 7,7% all'8%, mentre la Federazione tra Azione e più Europa cala dal 4,4% al 4,1%. Tra le formazioni minori, invece, sinistra italiana passa dal 3,4% al 3,1%, mentre Italia Viva cresce di 1,0,1%, dal 2,5% al 2,6%. Un progresso simile lo ottiene Italexit di Gianluigi Paragone, che sale dello 0,2%, arrivando al 2,5% dal precedente 2,3%. Al di sotto i Verdi con L1,5% e il Partito Comunista attorno all'1%. Tutti gli altri partiti assieme totalizzerebbero il 4,1% dei consensi. Con questi numeri un eventuale centrodestra riunito, con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Centristi, è stimato attorno al 48%. Il gradimento del Premier Draghi è invece stimato al 43,2%. Nello stesso sondaggio, poi, viene chiesto agli italiani se credono che i media abbiano raccontato la verità sulle ragioni della guerra in Ucraina. Per il 39,3% i media stanno cercando di manipolare il più possibile l'opinione pubblica seguendo ordini ricevuti dall'alto. Per il 24% sono stati piuttosto sinceri ed equilibrati. Per il 19,4% hanno assunto le posizioni dominanti e filo occidentali per fare più audience. Per il 13,2% hanno dato troppo spazio alle versioni di fatto filo russe per fare più audience. Il 4% non si esprime. Il 4% non si esprime.